Buongiorno, sono Renato Di Mari della Bermad Italia SRL e svolgo il ruolo di responsabile aria. La Bermad è una società israeliana con filiali in tutto il mondo, fondati in un kibbutz nel 1965 e da sempre si occupa della produzione di valvole e apparecchiature per il risparmio e la gestione della risorsa idrica. Anche in Italia, ora più che mai, la risorsa idrica e quindi l'acqua è un bene molto prezioso. Per questo collaboriamo insieme al nostro staff tecnico con distributori, concessionari che si occupano di aziende agricole e di pubblici allo scopo proprio di una gestione più controllata dei consumi di acqua e soprattutto anomalie che possono esserci nella distribuzione e creare una gestione molto più completa e controllata della risorsa idrica. Sono Massimo D'Arrico della Simad Italia, siamo all'interno dell'azienda Francescon di Rodigo a Mantova, azienda cliente della Simad da decenni per il quale abbiamo sviluppato dei sistemi di controllo dei consumitici con l'ausilio dei prodotti Bermad. Con i tecnici Bermad abbiamo selezionato dei prodotti specifici per il controllo dei consumitici e per i controlli di pressione, nello specifico i contelitri elettromagnetici M10, versione scanalata da 4 pollici, per la loro versatilità e per la precisione, oltre all'elettronica di bordo che ci consente di connetterci con sistemi di controllo remoto. Per il controllo della pressione dei settori sono state selezionate delle valvole della Bermad, in questo caso le serie 100 in versione a T da 3 pollici, top pilot, quindi con regolazione della pressione direttamente sul pilota preinstallato e degli sfiati d'aria per prevenire le problematiche relative all'accumulo di aria all'interno delle condotte. Tutti i prodotti Bermad selezionati sono in materiale polimerico, quindi ci garantiscono la tranquillità di poter utilizzare tutti i fertilizzanti necessari nell'agricoltura.